Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi raga vi metto una barcata di link che porteranno outfit non selezionati e parliamo di un sacco di tutte come avete visto da copertina Quindi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ragazzi per tutte le console Se siete interessati invece a questo veicolo vi lascio il video in descrizione e fatemi sapere Quindi iniziamo con il glitch raga, basterà semplicemente inserire tra i preferiti una di queste attività che trovate in descrizione O per Play o per Xbox, funziona su tutte le piattaforme raga Ogni link sarà un colore, cercherò di mettere tutto bene nella descrizione E niente ragazzi, il glitch consiste in questa cosa Quindi avviamo l'attività e una volta che siamo all'interno dell'attività non dobbiamo fare niente di speciale La andiamo ad avviare normalmente Una volta raga che siamo all'interno dell'attività spawneremo con l'outfit colorato Perché sono outfit che già esistono raga ma non sono colorati, non c'è la possibilità di colorarli Altri porteranno anche i guanti colorati che tanti li vogliono e li cercano da un sacco di tempo Quindi semplicemente aprire il menu interazione o touchpad e switchare luci vestiario per 30 secondi raga Dopodiché aprire il telefono e quittare l'attività E una volta che spawneremo di nuovo in free mode E sbada bam Abbiamo l'outfit e non basterà che salvarselo ragazzi in un qualsiasi negozio Adesso vi faccio vedere al volo un'altra tuta che mi sono portato con queste attività Ma ce n'è veramente tante e vi lascio a voi decidere quale prendervi raga Per esempio guardate che carina questa qua rosa Come al solito switchare 30 secondi e quittare poi l'attività e spawnerete con l'outfit Raga per chi in passato ha comprato da me o da qualsiasi altra persona o se l'è fatto da solo con 27 console Mettete il magic slot su queste tute e guardate che outfit bomba che escono Raga se vi è piaciuto il video lasciate un like come al solito per supportare il canale Che è importantissimo E niente raga alla prossima Sbada bam Sbada bam